Quanti licei, i professori, trovano fastidioso il fatto che magari un loro studente faccia sport agonistico, perché gli toglie tempo allo studio? Mi sta bene come viene valorizzato il movimento cestistico in Italia? No, per niente, perché a livelli, io ti parlo più che altro a livelli alti, quindi A, A2, B. I giovani vengono sfruttati, io dico anche nel modo giusto, perché le categorie di eccellenza, di elite e anche alto provinciale hanno ottimi ragazzi, ma che poi non hanno nessun futuro perché non vengono valorizzati. In che senso? Tu gli fai fare tutto il percorso fatto bene, ti fanno magari anche delle finali nazionali, qualche chiamata in nazionale se sono davvero bravi, e dopodiché scompaiono. Per quale motivo? Ema il ragazzo è giovane, non ha esperienza, è bingerlino, non è abbastanza alto, e cosa si fa? Vai a prendere lo slavo, vai a prendere l'americano, e il ragazzo italiano che si è fatto tutta la gavetta, e secondo me è un posto come dodicesimo, undicesimo, se lo potrebbe anche meritare, non se lo trova. E cos'è che succede? Succede che nelle leghe alte non ci sono più, vanno nelle leghe più basse, quindi la C1, la C2, qualche D, e lì non trovano, cioè trovano spazio, ma ancora c'è la storia, non ha esperienza, quindi non possiamo dargli tempo, e poi qualcuno riesce anche ad andare in alto, cioè guarda, che ne so, adesso non voglio fare tanti noi perché non sono tanto conosciuti, ma tu li vedi, qualche ragazzo in A2 ci sono, ma quanto giocano? Garbage time, e se riescono a giocare di più sono partite dove già la squadra sta vincendo di 30, quindi c'è il fatto che i ragazzi fanno anche tutto bene, ma poi non vengono comunque scelti, quindi per me è abbastanza fallimentare sotto quel punto di vista. Come parlavamo anche nell'ultima live, anche sotto il punto di vista mediatico, non abbiamo, diciamo, le finanze per sopportare anche la crescita di un movimento come questo. Su Sky stasera danno 5 partite perché è il Martin Luther King, ma se no ne danno 2 a sera se va bene, tra cui una è commentata in italiano. Esatto, tra l'altro neanche il commento. Quello che dicevamo settimana scorsa è che magari è, da un punto di vista nostro, italiano, si potrebbe magari supportare di più guardando l'LBA, però per guardare quella non posso vederla su un servizio della Rai, ma devo per forza pagare un abbonamento e questo preclude molte visualizzazioni. Così non hai soldi, ecco. Non hai soldi, ma non hai neanche nuovi appassionati. Non hai neanche nuovi appassionati, perché devi per forza andare a pagarti un Eurosport per vedere il basket italiano. Come cultura italiana dicevo, noi siamo incentrati sullo studio, non siamo incentrati sullo sport, cioè non è messo allo stesso livello dello studio. Vedi benissimo la scuola, quanti licei, professori trovano fastidioso il fatto che magari un loro studente faccia sport agonistico perché gli toglie tempo allo studio? Quanta gente smette di fare sport nel momento in cui inizia l'università? Noi siamo completamente incentrati su tutt'altro, non spingiamo nemmeno sullo sport, è quasi un sogno. Il momento in cui un bambino dice voglio fare il calciatore, ah sì, è il solito ragazzino che sogna di fare il calciatore, poi adesso ho fatto il calciatore perché qua è quello che magari vogliono, la maggior parte dei ragazzini vuole diventare. Se uno dicesse voglio giocare in NBA, la si prende sul ridere, sogna in grande, che carino, chissà quando la prenderà sul serio questa cosa, come se in quel momento magari lui non lo dicesse davvero. Quindi secondo me con la mentalità proprio che non c'entra niente con l'agonismo, con lo sport come cultura, mi sembra più che normale che i ragazzi non trovino spazio a livello alto e facciano una fatica bestia davvero. Di là è un business lo sport, di qua vogliono sicurezza. Di là già dall'high school è un business. Come dice Luca qua viene preso più come divertimento. Sì, non è un futuro che uno lo prende in considerazione. Non è che dici ok io potrei davvero farne della mia vita, della mia carriera lo sport. Non esiste questa mentalità. I giocatori che fanno sempre un altro lavoro, gli allenatori fanno un altro lavoro. Cioè in America è dall'high school che la gente ti guarda, ti guardano dall'high school. Ci sono anche tanti allenatori high school che sono strapagati perché hai un nome, hai un nome anche già da lì. Cioè tu dimmi adesso un allenatore del provinciale qui. Ma va, ma io so quelli che mi hanno allenato, fine. Avrà dei contatti perché si conosce, alla fine sai il campionato, sono sempre con le squadre vicine. Quindi li conosci, però più di così non è che sei conosciuto. Sai chi sei perché hai giocato contro gli ultimi tre anni. Comunque prima di aspettarci che cambi qualcosa sul come viene valorizzato il basket in Italia, deve cambiare la mentalità sullo sport dell'Italia. Questo è in grande sintesi. Deve diventare una priorità. Su questo abbiamo anche Flavio Tranquillo che ne parla molto spesso anche in alcuni talk in generale. Probabilmente è lui che cerca di spingere dalla sua cultura questo movimento, però uno non può tirare avanti la baracca da solo. No, esatto. Quindi non so. Forse sono d'accordo con Fra, forse in America è l'altro estremo. Cioè, passi d'acqua che è zero sport. Sì. Forse, cioè, io la vedo così da esterno, poi magari voi ci siete stati. Io non la chiamerei estremo, però sì, è più sbilanciata dall'altra parte. Però, sai, finché mi dici, io con lo sport posso andare a farmi quattro anni a Duke, posso farmi quattro anni a Stempo, io non le rifiuterei, forse un ragazzo. Poi mi dici, e ne faccio soltanto uno perché posso prendere dieci milioni l'anno, ma, cioè, chiaro, mi sarei anche un po' scemo a farmi quattro anni, magari. Cioè, mi faccio la mia carriera in BA e poi finisco gli studi. Ma io sono d'accordo, anche io sono d'accordo con voi a dire che di là c'è un estremo dall'altra parte, ma allo stesso tempo non è proprio vero, perché è una realtà che i ragazzi non è che sognano, quella è una realtà che può funzionare e che tante volte funziona, quindi non è che stanno esagerando su un sogno che magari non funziona. Loro stanno andando incontro e se si impegnano è una realtà che andranno a realizzare. Ma no, ma poi siamo noi e non in Italia, perché effettivamente in Europa sono messi meglio, guarda Serbia, Russia, Spagna. Ma poi adesso non voglio, scusate, non voglio puntare il dito né contro te Capitano né contro Fra, però è proprio perché noi viviamo in questa cultura dove lo sport non è così al pari con lo studio, che abbiamo appunto, non dico paura, ma guardiamo quando è innalzato così tanto e lo riteniamo addirittura esagerato, magari come il commento che avete fatto voi. Noi lo vediamo esagerato perché siamo abituati ad una media davvero bassa, davvero davvero bassa. Quindi la reazione è di là, esagerano. Sì, ma proprio la cultura italiana è totalmente diversa da di là. Certo. Cioè di là è esaltazione dell'io probabilmente. Sì, ma no, perché lì esaltazione dell'io. Però non è mai vista in modo negativo qua, che ne so, se uno fa carriera qua in Italia, quanto... Perché gli ero del culo alla gente vedere gli altri che fanno... Esatto, qua in Italia ero del culo a vedere gli altri avveri successo. Esatto, è quello il problema. Non dice di là, se uno ha successo, sono contenti, fanno festa, è... Sono un amico che dice... Oh, c'ho l'amico che ce l'ha fatta. C'ho l'amico che ce l'ha fatta, invece di qua, ah, guarda quello lì che viene con la Lamborghini, che ci ha comprato il macchinone, vuole far vedere che guadagna i soldi. Non lo so, qua davvero siamo un po' degli sfigati, eh, come mentalità. Scusatemi, ma... Cioè, un po' mentalità chiusa dalle vecchie generazioni. Sì, è proprio quella mentalità del... Ah, se la tira, ah, c'ha il bel lavoro. Cioè, ma si contento, ma porca miseria. Magari... Ma quanto si sarà impegnato per arrivare là? Ma possiamo fare... Fargli un applauso, ma sincero. Magari non lo sai neanche. Cioè, non lo so, forse si sente, ma mi fa venire il nervoso quando si trattano questi temi. Che senso ha sminire uno per quello che ha fatto? Esatto, zio caro, questo qui magari si faceva le nottate, non dormiva. Sì, sì, sì. Poi, Fabio, questo qua che stai scritto è giusto, guarda. Ah, mamma mia. Perché a casa mia dà fastidio tutti, che dicono, che ne so, Sport Mediaset. E adesso passiamo allo Sport. 40 minuti di servizio, 39 stanno parlando di calcio. Ma allora non mi parlare di sport. Dimmi se facciamo il servizio sul calcio. Fai non da. Ieri mi sono sorpreso un casino alla RAI, ultimo servizio, fa niente, RAI 1, il TG normale. Basket, 130 anni del basket. Ah, vabbè, almeno se ne sono ricordati. Sì, esatto, vabbè. Però, cioè, finché mi dici, eh, parliamo di sport, non mi parli solo di calcio, cioè, a me da fastidio il calcio perché, ma dimmi che stiamo parlando di calcio. Cioè, che cosa che ti costa? Ragini che questo è un programma sul calcio, non me lo guardo. Invece no, se mi dici sullo sport... Idea ma il trattamento della palla a volo e di tutti gli altri sport secondari. Ah sì, ma infatti... Mi parlo, mi parlo, mi parlo, mi parlo, mi parlo di calcio. Dicono una cosa sul basket, una sulla palla a volo, una sul moto, bene. Adesso noi, infatti, stiamo parlando della palla a canestro, ma questo discorso lo possiamo benissimo fare anche per tanti altri sport che non iniziano con la C e finiscono con alcio, cioè, facile. E se la Nazionale dovesse vincere qualche torneo, secondo voi, cambierebbe qualcosa? Allora, io ho da dire, ma non so se poi parto con un discorso lungo. La faccio corta e dico semplicemente che... Dipende, dipende, perché ovviamente tu vai a creare un cambiamento nel momento in cui la Nazionale che vince viene seguita, viene condivisa, diventa qualcosa. Che ne so, magari la settimana dopo c'è un incremento del 200% nell'interesse di quello sport. Adesso non so la Nazionale di cosa tu stessi intendendo, ma iscrizioni, comprare le magliette, le divise, corsi. E il momento in cui succede questo, quindi c'è dell'interesse da parte del popolo, allora sì che cambia qualcosa, perché lo Stato dice ok, la gente effettivamente però ci tiene e non lo so, quindi... Vabbè, secondo me dipende da questo. Se non se li caga nessuno... Esatto, cioè, magari vinciamo qualcosa a livello basket italiano, qualche europeo, qualche cosa... Ma no, aspetta, mi è venuto un esempio. Se non sbaglio, erano le Olimpiadi di Rio... Se non sbaglio, alle Olimpiadi di Rio, la Nazionale di Pallavolo mica è arrivata in finale, o una roba del genere. Eh, appunto, guarda, ma io sono un primo, guarda che fortissimo. No, esatto, sapete qualcosa? No, perché non l'hanno parlato. Esattamente, io sono un primo. Cioè, è una roba imbarazzante. È abbastanza imbarazzante. Ha dedicato una pagina solo alle Olimpiadi, ah, ecco, cioè, non va bene, appunto. Sì, che poi, cioè, l'Olimpiadi, cioè, ragazzi... Solo perché non ci sta il calcio, allora le Olimpiadi mettono i nostri sportivi. È l'evento sportivo più famoso di ogni quattro anni. È l'evento sportivo più famoso di ogni quattro anni. È l'evento sportivo più famoso di ogni quattro anni.